Se volete acquistare i crediti FIFA andate nei link in descrizione fifagredits.com Oggi è un giorno speciale, un giorno dove si scriverà la storia Perché oggi noi ci giochiamo Gervinio Toz Gervinio Toz, se non mi sono spiegato bene Beh ragazzi ed eccoci con il nuovo Pink Zips Come ho già detto nell'intro siamo con Gervinio Toz E siamo contro il nostro amico che è stato estratto oggi infortunato Questo è il Pink Zips più ricco della serie Vediamo la squadra, ha una serie anche lui Oh presente incontro tutti i genti con la serie A Perfetto, io ho una serie A pur io insomma Però mi sono appena ricordato che non ho cambiato i giocatori Quindi non giocherò con la squadra titolare Benissimo, olè, va bene così Insomma, non so neanche chi ho dentro Per fare tutto in fretta non ho cambiato i giocatori, va benissimo Anzi, che metto in mezzo Regalo, il regalo subito Per Mare Chiaro Amsic Che la butta dentro dopo 3 minuti e 40 Vai così, bella, bella, bella Regalone del portiere Si comincia perfettamente questa partita Vai così No, regalo, c'ho Palacio Difensore Sì, perché Non vi spiego perché Perché l'altro giorno si dovevamo messi a fare I coglioni con Frazza Fai tirita a centrocampo Ho messo Palacio Difensore Mannaggia la miseria Aspettate che cambio Mamma boh, però Palacio Quanto è forte la difensore centrale, Rodrigo Vai Tevez Guarda per Alcic, il tiro Ma che cazzo ti sei magnato No, no, regalo Potevo già chiudere la partita Oddio Che palla che gli ha tolto Chiellini Che palla che si è fatto togliere Che palla che ha ripreso Maicon Che palla che gli ha ritolto Basta Porca miseria Nel primo tempo Quattro minuti di recupero Non l'ho mai listi Guardalo che è partito Elsha Vai Elsha Rigore Cioè questo è rigore netto Arbitro No Mamma mia quanto ho rischiato qua Mamma mia Io gli angoli li odio Li odio Eccolo che è partito Tevez Perfetto Fanculo però Però c'è Radu Radu La metti in mezzo Dove c'è Balotelli Prova il tiro Cazzo Guarda Gaieco in che parte Guarda che c'è Balotelli Perfetta così Balotelli Ma vaffanculo Ma vaffanculo Tevez Vai che stai da solo Vai che lo puoi fare Il tiro Portacci Tu ha provato a farmi farlo Oddio Se l'hai fumato Rete Mario Balotelli Forse la chiude qui 2 a 0 E vai così E vai col twist Attenzione Non è finita Guarda il Sharawi E parte dall'altra parte La mette in mezzo Ancora palla per Sharawi Ancora palla Ma Balotelli Come se ne va da solo Balotelli Resiste Alla carica Il tiro Mamma mia Meritava il gol Che azione Che aveva fatto Mezzo C'è ben a T Ah Ancora il tiro Oddio Rigore Eh sì Eccolo È calcio di rigore Giusto così Fallo di quadrato C'è tutto C'è tutto C'è tutto Sì Inizione Deve essere dal dischetto Tevez dal dischetto In parte Tevez Il tiro E con questa È definitivamente chiusa Novantissimo 3 a 0 Il bimbo resta a casa Perfetto così Finisce qui È stata una bella partita ragazzi Combattuta Non è vero Vabbè scherzo E niente Questa è finita E andiamo a fare il quarto Ah per poco 5 minuti Cosa c'è da recuperare Che palla Che palla per Hanzik No E il cerawi No E la torta E il cerawi Prova il tiro Da lontano A giro Ma che c'è né Ma che con Ma che con Ma che con La torta Pace la Perchè questo è veramente un gol della madonna Guardate e ciao 4-0 proprio sul gong c'è il 4-0 di Asharawi la partita è fin da qui Gervinio ce lo siamo meritati è rimasto a casa noi ci vediamo con il prossimo Big Grips magari scrivetemi qua sotto quello che vorrete vedere la prossima settimana sempre intorno a quel budget e niente ci vediamo al prossimo episodio bello ciao